Salve a tutti, sono Andrea Pochetti e sono un pittore. Dopo aver letto il testo di Rossana Daniele, che ringrazio tra l'altro di avermi invitato, e che per spiegare il tema della residenza artistica di Agrigento ha declinato in modo esaustivo il senso etimologico di tessuto, anche io sono andato per sinonimi. Tessuto connettivo è un esempio di declinazione alternativa, come tessuto intelligente ne è un altro. Cosa ci è successo in questi mesi di isolamento? Probabilmente lo capiremo tra qualche mese, se non tra qualche anno. Per me tessuto significa inevitabilmente fondere due fattori, quello umano e quello vegetale. Quindi anch'io sperimento un tema a me caro, che è legato sul piano esistenziale alla fusione che svela non tanto mutazioni, ma condizioni psicologiche o patologiche. Nel quadro che presenterò in questo evento è raffigurata un'infermiera in una foto d'epoca, con una testa a forma di cactus.